Come vi ricordavo nella nostra anteprima, oggi è l'anniversario della morte di Don Luigi Giussani, servo di Dio, fondatore di gioventù studentesca da cui è poi sorto il movimento di comunione e liberazione. È stata una figura centrale nella storia della Chiesa e siamo nel centenario della sua nascita, siamo anche nei 40 anni di anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Esattamente era l'11 febbraio 1982. Vengono celebrate in questa giornata e in questo tempo davvero tantissime, centinaia di messe in Italia e nel mondo per ricordare la figura del servo di Dio Don Luigi Giussani e noi la ricordiamo e la approfondiamo grazie a chi l'ha conosciuto e siamo in collegamento con Sua Eccellenza, Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Buongiorno e bentornato, Eccellenza. Buongiorno a voi, grazie, grazie a tutti quanti per la vostra presenza. Grazie a lei perché è sempre un piacere averla con noi e grazie perché lei ha sempre la gentilezza di accettare i nostri inviti. Quindi grazie davvero. Allora, ricordiamo Don Giussani, lei l'ha conosciuto personalmente e tra l'altro io so che è stato determinante proprio nel suo cammino sacerdotale. Ci vuole raccontare lei come inizio tutto? Beh, inizio tutto quando io ero studente di teologia e poi di filosofia alla cattolica di Milano quando l'ho incontrato. Quando ho incontrato lui poi ho incontrato anche dei suoi alunni. La cosa che più mi impressionava, mi ha toccato subito, è che ha mostrato che la fede c'entra con le domande della vita, con le esigenze della vita, con la curiosità della ragione, con gli affetti, con tutta la vita. Per cui io, pur non essendo obbligato a partecipare ai suoi corsi, andavo in Cattolica, in Università Cattolica a Milano ad ascoltare le sue lezioni, perché era come scoprire che il Signore attraverso la sua testimonianza, la sua parola illuminava tutta la vita. Una delle cose più importanti è stata proprio la riscoperta del desiderio del cuore, come la nostra umanità, il nostro cuore come desiderio di infinito, come rapporto con infinito. E poi queste cose, la scoperta del cuore come rapporto con infinito. E poi qualcuno, un infinito che risponde alla domanda del cuore, cioè l'incarnazione del verbo fatto carne, il verbo fatto carne, il Signore che ci raggiunge, ci si fa compagno della nostra vita, ci tocca e ci sostiene nel cammino della vita. Poi questo aspetto ha anche una funzione pubblica, sociale, perché seguendo il Signore io cominciai ad interessarmi ancora di più alle materie che studiavo e poi anche a ciò che accadeva nella società, cioè era il tempo del 1968-72, eravamo in quel periodo, cioè la fede ti lancia nell'interesse sulla realtà, sulla vita, con una proposta positiva, attraverso un segno che è il segno dell'unità tra quelli che lo seguono, perché stare con il Signore realizza un'unità diversa già tra di noi, quindi la comunione, la comunione che è fattore di liberazione del mondo, cioè annuncio di speranza per tutti, quindi una funzione personale, profondamente personale, il cuore che si spalanca al mistero, il mistero che si può sperimentare, che diventa amico e poi un'apertura agli altri, un'attenzione ai poveri, ai bisognosi, un'attenzione alla società, una preoccupazione specifica nel campo educativo, proprio l'educazione, uno dei punti fondamentali e quindi l'impegno di una testimonianza cristiana nella comunione con la Chiesa Cattolica e quindi col Santo Padre, oggi Cattedra di San Pietro, dando testimonianza che ci può essere una vita migliore, una vita più degna per la persona, per la società e per i più bisognosi in particolare. È bellissima questa immagine che ci regala, eccellenza, questa fede che ci lancia nelle cose della vita, che si intreccia profondamente con gli aspetti più concreti della vita e che non è qualcosa che rimane ovviamente lontano da noi e distaccato. E proprio questo era il carisma di Don Giussani, che a proposito di carisma scriveva in Generare tracce nella storia del mondo, scriveva sul carisma, il carisma è come una finestra attraverso cui si vede tutto lo spazio, la riprova di un carisma vero è che apre a tutto e non chiude. È proprio questa la chiave di lettura anche per capire il carisma di Don Giussani, no? Certamente, è proprio questo, è un'apertura del cuore. E poi la cosa bellissima che a me ha toccato proprio nel periodo della mia giovinezza, quando stavo per diventare sacerdote, e seguendo il suo annunzio, lui mi diceva che per esempio il dono della vita a Cristo nell'esperienza della donazione della vita, che nella Chiesa si chiama verginità cristiana, l'offerta della vita totalmente al Signore, è non rinunciare all'affettività, ma vivere l'affettività come la viveva il Signore. Cioè, pensa, i rapporti con gli amici, ma poi per chi si sposa, per il marito, la moglie, i figli, la società, un'affettività trasformata. Quest'anno, o lo scorso anno, per il compito che ho di seguire i Memories Domini, o c'è stata la professione di 52 nuovi giovani sui 30-35 anni, che io domandavo a ciascuno di loro, ma perché vuoi fare la professione quando uno si dona totalmente al Signore nella vita, seguendo i concili evangelici della povertà, della verginità e dell'obbedienza? Perché tu vuoi fare questo quando il mondo dice tutto il contrario? E la risposta era della prima, la seconda, la terza, perché seguendo il Signore è possibile la pienezza della mia umanità, la pienezza dell'umanità. Capite? 50 che significa che proprio il carisma di Don Giussani è vivo, il carisma è vivo ed è un servizio proprio portando all'annuncio di Gesù Redentore. Lui non diceva a Papa Benedetto XVI quando ha fatto il funerale. Il segreto era che non rimandava a se stesso, ma rimandava a Gesù, rimandava al Cristo. E questi ragazzi, belle ragazze, bei ragazzi in carriera, che dicono la pienezza della vita e seguire il Signore. È una testimonianza straordinaria, è ovviamente il segno che Don Giussani parla ancora oggi a tantissimi giovani. Questa sera alle 20.30 lei celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Santa Rita. Che messaggio darà per sottolineare quello che ancora figura il messaggio di Don Giussani? Il primo messaggio è che in questi tempi di pandemia la fede ci fa innanzitutto pieni di speranza anche nella sofferenza. Abbiamo perso tante persone, abbiamo perso degli amici proprio della parrocchia di Santa Rita per il Covid. Quindi la vicinanza del Signore per il quale gli amici che abbiamo perduto non sono più lontani, non sono perduti. Ma poi anche la vicinanza di una solidarietà a tutti quelli che sono ammalati. E poi soprattutto un altro messaggio, il messaggio in questi tempi di guerra, il messaggio che c'è una pace che viene dal profondo del cuore, dall'accoglienza del Signore e dall'accoglienza del prossimo. Essere nella chiesa fermento di pace, fermento di speranza. La speranza che nasce dal Vangelo e che la chiesa in comunione con Papa Francesco testimonia davanti a tutti, essendo protagonisti di un mondo pieno di pace e non di conflitto. Noi la ringraziamo davvero, Eccellenza, per essere stato con noi. È sempre un piacere ascoltare le sue parole. Grazie davvero. Grazie e buona giornata a tutti. Che Don Giustani ci aiuti anche nella nostra testimonianza. Vi saluto tutti. Grazie, grazie mille a Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, per questo ricordo e davvero per le sue preziose parole. È sempre un piacere averlo qui.